L'impennata dei prezzi energetici, come delle materie prime, la guerra in Ucraina, la pandemia che ancora non si è risolta, tutti elementi di incertezza per l'economia e quindi anche il real estate si interroga sulle strategie da adottare per gli investimenti. Abbiamo chiesto a MG, uno dei primari operatori del risparmio gestito e della real estate, quali sono le linee di investimento per il prossimo periodo. Abbiamo come ospite Gabriele Inglese, che è la responsabile per l'Europa della strategia di investimenti e di asset management. Dottor Inglese, un outlook generale sulla situazione attuale, un quadro macro per inquadrare il momento storico? Alla luce delle attuali tensioni a livello geopolitico, nonché delle tematiche a livello globale relative alla catena di approvvigionamento, ci aspettiamo un quadro economico caratterizzato da un rialzo dell'inflazione. Nonostante riconosciamo che alcune cause, alla base dell'aumento dell'indice dei prezzi, siano transitorie e non permanenti. Inoltre ci aspettiamo che l'aumento dell'inflazione possa andare a colpire diversi paesi del mondo in maniera trasversale, ma con magnitudine diversa, in base a come i vari paesi saranno suscettibili, esposti, eventuali shock della domanda e dell'offerta, in base a quanto i vari paesi saranno stabili da un punto di vista economico, finanziario, politico e sociale. Invece per quanto concerne un ipotetico aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, pensiamo che questo possa essere più verosimile, più probabile nel medio periodo, piuttosto che nel breve periodo. Entriamo nel dettaglio ora per quanto riguarda il real estate. Analizziamo i singoli settori, dalla logistica residenziale, uffici, retail, hotel. Qual è la vostra impostazione? Tenendo come riferimento il quadro economico che dipingevamo poco fa, più le pressioni inflazionistiche, effettivamente a nostro avviso ci sono delle asset classes che possono risultare meglio posizionali di altri e quindi essere più attrattive di altri. In particolare il residenziale, nel dettaglio il PRS, evidentemente in quelle situazioni in cui i contratti di affitto sono di breve e media durata, in modo da beneficiare più agevolmente e più rapidamente del trend positivo di crescita dei canoni di affitto. In secondo luogo abbiamo la logistica, nonostante, ecco, riconosciamo che per certi versi questa asset class si stia surriscaldando e ad esempio una testimonianza di questo sono i prami di yield che si sono compressi notevolmente nelle ultime transazioni. Quindi, per quanto concerne la logistica, come mai prima, sarà fondamentale affidarsi ad immobili, quindi investire in immobili con buone situazioni locative, buone situazioni manutentive, posizionati in ottima location e non da ultimo con buone credenziali ESG. E questo sarà soprattutto importante in un'ottica di medio e lungo periodo. Guardiamo con interesse anche agli uffici, anche qui penso a Milano e evidentemente Central Business District e parliamo sempre di immobili con fondamentali solidi. Per quanto concerne il retail, crediamo fermamente che non si debba fare tutta l'erba a un fascio, infatti riteniamo che, ad esempio, il food retail, i parchi commerciali, siano posizionati meglio rispetto ai centri commerciali, che vediamo che continuano a soffrire ancora un po'. Infine, in ottica di miglioramento dei flussi turistici domestici o anche internazionali, pensiamo possa avere senso guardare ed investire anche negli hotel, principalmente se localizzati nelle città italiane primarie, e se parliamo di strutture gestite da operatori internazionali specializzati nel settore e avendo sempre come sottostante contratti di affitto lunghi. In tutto questo, i criteri di sostenibilità, meglio conosciuti con l'acronimo ISG, sono l'ordine del giorno in tutti i consigli di amministrazione e in ogni discussione legata alle attività economiche. Il real estate come si sta muovendo? Sostenibilità, ISG, saranno tematiche cardine anche dell'edizione del BIPIN di quest'anno, i recenti conflitti sociali, sanitari e ambientali ci hanno fatto aprire gli occhi, per certi versi, e quindi ci hanno costretto a ripensare non solo il modo in cui viviamo e lavoriamo, ma anche gli spazi in cui viviamo e lavoriamo. Per quanto concerne l'ISG, pensiamo che il settore immobiliare debba effettivamente fare da traino, nel riconcepire questa trasformazione facendo leva su tematiche come la sostenibilità e la vivibilità. Per l'altro pensiamo che l'ISG possa essere un ulteriore fattore di polarizzazione del mercato immobiliare, sia per quanto concerne gli investimenti, ma anche per quanto riguarda le locazioni, quindi la richiesta di spazi da parte dei conduttori. Nello specifico, a nostro avviso, i gestori patrimoniali come noi avranno a che fare con due sfide principali. La prima sarà quella di gestire livelli sempre crescenti di cooperazione con i conduttori. La seconda sarà quella di trovare il giusto equilibrio tra capex che si possono spendere su un immobile e il livello di credenziale di ISG a cui un immobile può effettivamente aspirare. Noi di M&G abbiamo l'ISG come era di focus da diversi anni ormai. Lo teniamo presente in tutte le fasi del ciclo di vita dell'immobile, quindi a partire dall'acquisizione, passando dalla gestione per finire con la vendita. Applichiamo un asset management di tipo attivo, volta ad individuare dei gap nelle credenziali green degli immobili per poi agire con delle strategie mirate e puntuali per andare appunto a colmare questi gap. Se possiamo dare un esempio per quanto riguarda il portafoglio italiano, tutti gli immobili che abbiamo sono o certificati o in fase di ricertificazione, brim o lead, a seconda dei casi.